Il mondo del vino italiano è compatto, da nord a sud ci sono le stesse esigenze che riguardano non solo quelle che sono le sfide sui mercati, ma anche quelle che sono le sfide per quello che è il cambiamento climatico e le nuove patologie. Sicuramente Coldiretti in questo riesce ad essere anello di congiunzione tra grandi, piccole e medie aziende in un confronto che servirà ovviamente per portare le istanze a livello nazionale. Tutte cose belle, magiche, che appunto continuano a raccontarci la bellezza di questo prodotto. E' assolutamente indovinata, tutte le strade portano al vino di Coldiretti. Grazie per la visione!